Arriviamo alla dodicesima edizione con le parole giuste, la rassegna che attraverso le parole della giustizia, della filosofia e della letteratura prova a mettere in contatto la nostra comunità con i nomi più importanti per l'appunto del mondo intellettuale, giornalistico, culturale del nostro paese. Sei appuntamenti quest'anno per questa dodicesima edizione che dal 28 di novembre al 25 di marzo ci accompagneranno ad affrontare alcune parole chiave tra cui appunto cultura, ambiente, senso comune, buonsenso, giocando anche su le accezioni che la letteratura ci offre di queste parole. Ma il primo appuntamento sarà dedicato alla disobbedienza e affronteremo questo tema con un ospite d'eccezione che è il giudice Francesco Messina che peraltro in questi anni è stato un prezioso compagno di viaggio della nostra rassegna e del sistema bibliotecario del comune di Fano. L'appuntamento è quindi lunedì 28 novembre alle ore 18 presso la Mediateca Montanari con la parola disobbedienza il giudice Francesco Messina con la collaborazione ovviamente altrettanto preziosa dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tutto il programma è pubblicato sul sito del comune di Fano e soprattutto ovviamente in dettaglio sul sito sistemabibliotecariofano.it